Il codice rosso studiamo la scuola così recita lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che coinvolgerà gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori della provincia di Belluno. I carabinieri stanno investendo molto in questa attività di prevenzione che vede l'arma lavorare a stretto contatto con l'istituzione scolastica. L'attività preventiva è sicuramente quella che premia di più in considerazione che quella repressiva arriva in un momento in cui la vittima ha già patito troppo per quello che doveva subire. Questo è un argomento in più che abbiamo inserito affinché questa fascia di reati molto preoccupanti, visti i numeri che crescono sempre più, possa sempre essere recisa con la prevenzione e non con la repressione. Violenza che non riguarda solo le fasce d'età adulte perché sempre più si manifesta anche fra gli adolescenti. Fondamentale è l'educazione al rispetto che deve essere un rispetto universale quindi nei confronti del prossimo ed in particolare nei confronti delle fasce deboli e delle donne. È di fondamentale importanza secondo me che tutti noi studenti possiamo confrontarci con l'arma dei carabinieri anche perché non è una violenza che riguarda solamente gli adulti ma è una violenza che riguarda anche noi ragazzi e perciò è di fondamentale importanza capire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Un percorso educativo allora per i giovani per accrescere la loro consapevolezza e la loro sensibilità anche se sovente proprio dalla più tenera età che imparano loro malgrado a conoscere la violenza sulle loro madri. Abbiamo riscontrato specialmente nell'ultimo periodo che c'è una violenza assistita quindi questi mariti questi compagni che purtroppo usano violenza anche di fronte ai figli facendoli assistere a queste condotte non proprio legali.